Eccoci qui, è da poco finita l'amichevole tra Gubbio e Ascoli, finita 1 a 1, come leggo purtroppo non ero lo stato, non ho visto, quindi leggo solamente ora che abbiamo pareggiato, tra l'altro abbiamo anche giocato abbastanza bene da quanto leggo, ma andiamo a leggere il tabellino della gara. Gubbio che si schierà con il 4-3, Marchigiani dal primo e secondo tempo Battagliola, Paolelli dal primo e secondo tempo Tofanari e Spece dal primo e secondo tempo Schiaroli, Piccini, Loporto dal quindicesimo Pedrelli, Benedetti dal ventottesimo Bergamini, Ricci dal ventunesimo Conti, Casiraghi dal primo e secondo tempo Maraccari, Battista dal quindicesimo De Silvestro, Plescia dal quindicesimo Marchi, Tavennelli dal primo e secondo tempo Conti, all'esposizione Montanari, Cerboni, allenatore Sandriani. Lasco di Canischiera con il 3-5-2, Perrucchini dal primo e secondo tempo Lanni, De Santis dal quindicesimo Perpeciari, Padella, Quaranta, Cupiz, Baldini dal diciassettesimo e secondo tempo Adai, tra l'altro ex Gubbio, aggiungo io, Zebeli dal venticinquesimo Parlati, Cavion, Mignanelli dal primo e secondo tempo Valù, Gans dal primo e secondo tempo Gombo, non so se si pronunciano così ma onestamente non è che adesso gli sa quanto, dal trentattesimo e secondo tempo Dioppo, poi Beretta dal venticinquesimo e secondo tempo Tassi, a disposizione di Egidio, Vignati, Clerici, allenatore Vivarini, Albitro, Angelucci, Di Foligno, reti al diciottesimo al primo e secondo tempo Benedetti, su rigore, al trentesimo al primo e secondo tempo Gans, su rigore Note, 234 spettatori, incasso di 1834 euro, angoli 6-3 Andiamo a leggere la cronaca Nel test amichevole tra Gubbio e Ascoli, viene fuori un pareggio 1-1 di rigore, prima ingolle il Gubbio, quando Mignanelli commette fallo su Casiragli in area ospite, siamo al diciottesimo Nel discreto Benedetti è infallibile, e poi alla formazione Mangonera, che pareggia sempre dagli 11 metri, quando Piccini in area strattura Beretta Tutto accade al trentesimo e così Gans trasforma senza problemi dagli 11 metri Mister Sandiani ha proposto nel Consiglio 4-3, un Gubbio che corre, prova di giocare col ritmo, in piena estate sembra la squadra Giacomo una manovra fluida Ovvio che in campionato sarà un'altra musica, ci si attende che il Gubbio mantenga questa volontà vista finora, oggi ogni testa via è probante Un buon allenamento per arrivare tutti i meccanismi, nel mercato è ancora tutto taci, per ora Beh sì, diciamo che alla fine Ferretti ha rinnovato con l'altrapani, mi spiace ma alla fine era proprio un sogno, proprio quasi realizzabile, secondo me Quindi alla fine gli auguro le migliori fortune, onestamente perché è davvero un ottimo giocatore Spero che si riprenda dopo la brutta stagione, non in quanta prestazione ma in infortuni purtroppo l'hanno massacrato E niente, dopo si parla di Alessio Campagnacci, ogni giorno c'è scritto che dovrebbe arrivare l'ufficialità Speriamo che prima o poi arrivi questa facilità per Alessio Campagnacci Bene, queste erano tutte le notizie per oggi, affinamento, alla prossima sempre, forza Gubbio Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!